L'urto, la bicicletta che sbatte contro il parabrezza e poi viene sbalzata violentemente sull'asfalto. Tragedia questa mattina ad Albignasego lungo via Roma, all'altezza del confine con la frazione di Carpanedo. Un 84enne, residente a Bertipaglia di Maserà, è rimasto vittima di un incidente. L'uomo Luigi Chiodetto è morto nell'impatto violento contro un'auto. L'anziano stava percorrendo via Roma in bicicletta quando, per causa ancora al vaglio della polizia locale, è stato urtato dall'auto guidata da un 25enne del posto. Nell'impatto il ciclista è stato sbalzato a terra ed è morto per i traumi subiti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia locale intervenuta sul posto ha temporaneamente chiuso il tratto di strada per i rilievi per chiarire la dinamica della tragedia. Grazie.